Musica Musica ...la della mondo! la cosa più bella del mondo è essere qui stasera al commento di Lomato in area YouTube Ciao ragazzi! Buonasera! Buonasera a tutti! Siamo qui con... Rocco? Rocco? Il nome di fatto? È Rocco Rocco! Sono Rocco Maschio! Rocco Maschio! Antonio Maschio! Antonio Maschio e Rocco Rocco! Siamo solo amici! Da dove venite ragazzi? Cancellara, provincia di Potenza! Ecco avete fatto tanta strada per venire qua con Benzo stasera? Siete contenti? Veniamo da Sirmione! Lavoriamo lì! È la vostra prima volta qui al commento? Sì! Mi piace? Bellissimo! Oh bravi bravi! Ci sono gli amici fuori che aspettano di sentirmi di cantare quindi io direi di cantare! Andiamo! Partiamo con questa figura! Ciao Rocco Maschio! Guida! Gianna! 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 Sosteneva tese e illusioni! Gianna! 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 Prometteva parete e fiumi! Gianna! 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 Sosteneva un più codrillo e un dottore! Gianna! 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 Glianna! Sosteneva neanche un minuto per fare l'amore! Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita, la gente si sveste e comincia un mondo, un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà. Gianna, Gianna, Gianna non voleva il suo big baglione, Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione. Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni o ufo, Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tantufo. Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita, la gente si sveste e comincia un mondo, un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà. Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Butta là, vieni qua, chi la prende e chi la dà? Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti slow, di chi sei? Ma che fai? Il dottore non c'è mai, non è mai, non c'è mai. Tu non prendi se non dai, vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Butta là, vieni qua, chi la prende e chi la dà? Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti slow, di chi sei? Ma che fai? Il dottore non c'è mai, non c'è mai, non c'è mai, tu non prendi se non dai, vieni qua, ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che fai? Dove vai con chi ce l'hai? Butta là, vieni qua, chi la prende e chi la dà? Dove sei? Dove dai? Fatti sempre i fatti slow, di chi sei? Sì, sì, signore e signori, abbiamo avuto qua il dottor Rocco Massimo, il nostro Antonio, direi una potenza, più che la potenza. Rocco Maschio. Ah, Rocco Maschio, Rocco Maschio, hai ragione, hai ragione, ti andiamo a precisare. Ok, ragazzi, volete dedicare qualcuno a questa performance, a qualcuno che volete salutare da lontano? Certo, la mia ragazza che è qui fuori. Allora, ragazzi, che è di fuori, perfetto, chi si chiama? Loredana. Ecco, dire una cosa d'amore che tanto adesso non ti sente. Ciao amore, ti amo, non ti faccio adesso la dichiarazione di matrimonio perché non è messa per il caso. Domani vedrai lo squallore. Non ha sentito niente, quindi... Meglio così. Beh, vai tranquillo, vai tranquillo. Il nostro Antonio vuole, insomma, Antonio è single, è un appena, è un ragazzo d'Italia. Per tutte voi. Fatevi avanti, fatevi avanti, donne. Ecco, proponiamo Antonio... È arrivato l'arrotino. È arrivato l'arrotino, Antonio è usato di garanzia, ecco, con una... Usato? In garanzia, no? Come nuovo, come nuovo. Sempre tagliandato. Ecco, perfetto. Giò potente, volete salutare qualcuno? Nessuno. Cancellare. 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 Cancellare, giusto. Agliettiamo tutti i nostri compaesani. Basta, la serata è finita qui. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao Antonio. Ciao ragazzi. 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 Grazie a tutti